Buonasera a tutti e benvenuti. Vorrei parlare brevemente di quanto è successo recentemente in Svezia la morte del fondatore dell'IKEA, Ingvar da Kamprad. Perché ne voglio parlare così brevemente? Non tanto per commemorarne la memoria, per carità sarà stato sicuramente un grande uomo, morto a 91 anni, fondatore di un colosso che tutti conosciamo in tutto il mondo. Si sorrideva qualche tempo fa, poco per l'uscita dell'Italia dai mondiali, quando nella partita di recupero i tifosi italiani scrivevano vi rimontiamo come l'IKEA agli avversari e quando una volta uscita l'Italia dai mondiali, problematiche per la panchina del nostro allenatore, l'IKEA rispondeva non preoccupatevi, la panchina ve la diamo noi con le loro panchine in legno, i modellini, quelli che troviamo nei negozi con i nomi strani. Ecco, è proprio sul fatto dei nomi strani che mi piace ricordare questo fondatore, persona sicuramente geniale, non tutti sanno, persona dislessica. Con una sorta di, chiamiamolo segreto dietro il nome di tutti questi prodotti IKEA che tutti noi le rare volte per i mariti, mi auguro, o le spessissime volte per le mogli, quando ci siamo trovati in questi luoghi veramente siamo rimasti stupiti nel leggere, abbiamo fatto fatica anche perché c'erano nomi stranissimi. Ricordo un nome Brusali, Ombarlig, Bjorksnas, tutti nomi incomprensibili per chi non parla ovviamente la lingua svedese e addirittura il più delle volte impronunciabili. E ci sono stati peraltro nei social tantissimi gruppi di interesse proprio sul fatto e sulla ricerca dell'oscurità e della nascita di questi nomi appioppati a tutti gli oggetti che troviamo all'IKEA. E allora il ragionamento è stato quello di ripercorrere la storia di questo fondatore, fondatore di un'azienda piccolina nata così a livello familiare e con l'elaborazione di questi nomi fatti dalla sorella del fondatore che non riusciva a ricordare i codici dei prodotti, aveva difficoltà a ricordare questo, la sorella ha pensato di associare questi oggetti a nomi familiari. E allora noi non lo sappiamo perché ovviamente non siamo svedesi, non conosciamo certe situazioni, però ad esempio tutti gli articoli per il bagno hanno nomi di laghi svedesi, i letti, gli armadi di luoghi della Norvegia. Alle librerie, e ce ne sono sempre tantissime, ci sono nomi di professioni oppure nomi propri maschili, ad esempio lo scaffale più famoso al mondo che lì ci stupiamo perché fra Ungnur, Gringrad e tutto il resto ha un nome semplicissimo che viene chiamato Billy, in realtà è Billy Lichten Dahl, un impiegato evidentemente che si era distinto per la sua capacità all'interno dell'azienda. Poi peraltro nei prodotti per bambini la sorella del fondatore ha dato nomi di animali, i tessuti hanno nomi di donna tipici della Scandinavia ed ancora sulle lampade, sull'illuminazione la cosa è un pochino più complicata perché si vanno a vedere ad esempio le unità di misura, le stagioni, i mesi, i termini nautici, quindi tutto quello che noi andiamo a trovare nell'IKEA riguarda un ragionamento particolare, quindi un aiuto della sorella, anche lei con il suo nome bello particolare, Ingvar Camprad, il nome insomma comunque complicato, la sorella che in aiuto del fratello cercava di supportarlo in questo modo. Peraltro anche il nome IKEA è l'acronimo del nome, IEK nome e cognome e poi la A, la E e la A sarebbero Helmtiard e Agulnaird che sono nomi di una fattoria di famiglia del villaggio in cui sarebbe cresciuto il fondatore. Peraltro ecco non stupiamoci perché sappiamo che il campione del mondo svedese di Kubo, di Rubik ha creato tutta adesso un'agenda per cercare di fare un dizionario svedese italiano con i nomi dell'IKEA in inglese, ecco c'è tutto un mondo intorno anche a questi nomi strani ed è per questo ecco banalmente con queste parole che ricordo il fondatore a prescindere dal fatto che stiamo parlando di un colosso che è veramente conosciuto ed è importante in tutto il mondo. Grazie. Grazie.